Lezione 16 Che passatempo hai? Che cosa fai di solito quando hai tempo libero? Mi piace ascoltare la musica Che tipo di musica ti piace? Mi piacciono tutti i tipi di musica E tu, Minsu, che passatempo hai? Il mio passatempo preferito è il trekking Che bello hobby che hai Allora perché non vai sulle Dolomiti? In futuro mi piacerebbe andarci Che cosa fai di solito quando hai tempo libero? Mi piace ascoltare la musica Che tipo di musica ti piace? Mi piacciono tutti i tipi di musica E tu, Minsu, che passatempo hai? Il mio passatempo preferito è il trekking Che bello hobby che hai Allora perché non vai sulle Dolomiti? In futuro mi piacerebbe andarci Lezione 16 Che passatempo hai? Che cosa fai di solito quando hai tempo libero? Mi piace ascoltare la musica Che tipo di musica ti piace? Mi piacciono tutti i tipi di musica E tu, Minsu, che passatempo hai? Il mio passatempo preferito è il trekking Che bello hobby che hai Allora perché non vai sulle Dolomiti? In futuro mi piacerebbe andarci Che cosa fai di solito quando hai tempo libero? Mi piace ascoltare la musica Che tipo di musica ti piace? Mi piacciono tutti i tipi di musica E tu, Minsu, che passatempo hai? Il mio passatempo preferito è il trekking Che bello hobby che hai Allora perché non vai sulle Dolomiti? In futuro mi piacerebbe andarci